Buongiorno youtubers e bentornati Oggi volevo recensire l'allevamento e l'allestimento del terrario dell'Archispilos Traptus Gigas che è questo magnifico millepiedi Allora, da adulto può raggiungere i 35 cm e arriva ai 7 anni di età Lei si chiama Tenebra, è una femmina ha soli 2 anni e da lungo a 22 cm Allora, mettovi un attimo Ok Allora, questo animale si è disturbato molto se cerne un liquido rosso che ha un basso contenuto di cianuro e a contatto con la pelle provoca solo una lieve irritazione però se entra in contatto con le mucose come gli occhi e la bocca la questione si aggrava un pochino Allora, sul corpo di questi animali sono presenti degli acari che però non vanno sulle nostre mani e rimangono solo sul corpo del millepiedi e non danno fastidio neanche all'animale sono vivoni simbiosi il millepiedi e questi acari adesso non ve li faccio vedere perché la telecamera non è di ottima qualità non si vedrebbero Cominciamo qua dall'estimento del terrario Allora, io uso 3-4 cm di torba il millepiedi ha bisogno di scavare in profondità alcune volte sopra la torba metto anche delle foglie secche per creare più nascondigli per i millepiedi questo millepiedi in natura si alimenta di sostanze organiche in decomposizione e in cattività può essere alimentato con frutta e verdura di uso in questo periodo mela ma molto spesso anche banana, mango insalata, pomodori, qualsiasi frutta e verdura è indispensabile una vaschetta dove mettere il cibo per non farlo entrare in contatto con la terra perché le feci di questo animale sono ricche di batteri e se è a contatto col cibo provocherebbero delle infezioni gravi per il nostro animale è indispensabile una tana che deve essere fresca, umida e buia e io uso qualche roccia o qualche pezzo di sughero per crearla ho trovato questo pezzo di sughero abbastanza grosso che è davvero comodissimo lo consiglio a tutto il sughero ok così dovrebbe andare bene ok allora l'umidità deve essere sugli 85% più o meno e io nebulizzo con l'acqua 2-3 volte alla settimana però bisogna nebulizzare abbastanza ok allora io questo esemplare l'ho comprato due anni fa in Tomodina l'ho pagato 5 euro l'ho comprato a uno stand di spagnoli e ultimamente ho visto anche su internet che questo animale viene a costare anche 15-25 euro infatti il prezzo adesso è molto alto e vi ricordo che il 23 settembre sarà la fiera di origio a Varese e grazie per la visione spero vi sia stata utile questa scheda arrivederci al prossimo video grazie per la visione